Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere tra quella che è la polisensibilizzazione e quella che è la polialergia. La polisensibilizzazione è una condizione in cui il paziente ha una risposta IgE verso più allergeni, indipendentemente dai sintomi, mentre invece la polialergia è una condizione di allergia clinicamente confermata a due o più allergeni. Questo naturalmente è un tema che è stato molto trattato negli anni scorsi e che ha visto una letteratura molto varia. In questo articolo questo autore ha cercato di riassumere quelle che sono proprio le prevalenze delle polisensibilizzazioni e vedete che si passa da un 27% circa in alcuni studi addirittura ad arrivare a un 75% in altri. Gli studi quindi più importanti, gli studi epidemiologici su popolazione generale hanno messo in risalto come ad esempio negli Stati Uniti su 11.000 soggetti circa il 38% era polisensibilizzato. Negli studi europei, quindi sempre numeri molto grossi, si arrivava ad una prevalenza variabile dal 13% al 25%, negli studi olandesi quindi sui bambini, su 1.000 bambini circa il 27% risultava polisensibilizzato. Tornando in Italia, questi studi sull'adulta hanno messo in risalto come in soggetti con remita allergica circa 2.500 soggetti, ben un 75% era polisensibilizzato e vedete come la parietaria, gli acari, sono gli allergeni predominanti. Questo invece era un dato pediatrico sempre del Gaslini di tanti anni fa e in cui si era messo in risalto come in bambini di 3 anni la polisensibilizzazione è comunque un fenomeno presente nel 20% dei casi e si arriva a delle percentuali decisamente molto più elevate nei soggetti di 11 anni che arrivano ad avere una polisensibilizzazione nel 60% dei casi. Questo è una distribuzione sostanzialmente delle sensibilizzazioni che vedete come un alberello vanno a crescere dall'età di un anno all'età di 6 anni e l'acaro sicuramente è preponderante. Nello studio PoliSmile vediamo come nei soggetti che hanno una fascia di età molto variabile dai 3 anni e mezzo ai 65 anni la polisensibilizzazione è un fenomeno molto presente in tutte le gravità di malattia con una particolare presenza nelle forme di remita moderato grave, così come vedete che nelle forme intermittenti di asma è molto preponderante la polisensibilizzazione. Questo è semplicemente per ricordare che la remita allergica è un fenomeno che va assolutamente in incremento in questa fase 3 dello studio ISAC si arriva a una prevalenza del 25-27%, così come in incremento la patologia asmatica. Questi studi che riguardano l'adulto dimostrano che già negli anni 90 e 2000 c'era stato un incremento, ma questo incremento è ulteriormente aumentato verso il 2016. Di pari passo va il numero delle sensibilizzazioni. Vedete questo studio che è uno studio in Germania in cui i bambini con patologia allergica hanno un incremento delle sensibilizzazioni a più di un allergene. Quindi il dato della prevalenza della polisensibilizzazione è stato ripreso anche in quest'ultimo studio in cui i soggetti con asma, erano circa 600 soggetti con asma, presentavano nel 34% dei casi una sintomatologia di tipo renitico allergico perenne con esacerbazioni stagionali che è estremamente comune e che in genere è correlata a un fenotipo grave caratterizzato dalle polisensibilizzazioni e dall'incremento delle igie. Questa condizione è anche associata ad un'asma difficile da trattare. Anche lo studio del contro l'asma che ha sostanzialmente valutato l'asma in un territorio estremamente vasto perché sono tanti centri in Italia, dal nord al sud, ha messo in risalto come circa il 50% dei soggetti asmatici non abbia un'asma controllata e che questi hanno un'arenite nell'88% dei casi e un'allergia nel 95% dei casi. Quindi quello che abbiamo sempre osservato è che esiste una storia naturale della reazione allergica per cui inevitabilmente si va verso le polisensibilizzazioni con una maggiore durata e intensità di sintomi, con più organi coinvolti e anche con un maggior rischio di avere infezioni. Questi studi invece che sono estremamente brillanti da un punto di vista scientifico, sono gli studi del gruppo di Jean Bosquet, hanno messo in risalto come studiando attraverso l'intelligenza artificiale, quindi sono moltissimi dati immagazzinati in questi studi, il concetto del polisensibilizzato come un paziente più grave, sempre sintomatico, con una multimorbidità, con asma, rinite allergiche, altre patologie, con alti livelli di IgE totali, con alti livelli di IgE seriche specifiche, con una maggiore gravità e persistenza dei sintomi ormai è un dato dimostrato, qui i numeri sono altissimi. E addirittura accompagna questa brillante osservazione con altre osservazioni molto interessanti, ovvero la probabilità di avere sintomi per il cane o il gatto a 16 anni dipende dal livello delle IgE seriche per il cane o il gatto all'età di 4 anni. E come dire, all'inizio esiste una sensibilizzazione che però nel tempo va a sviluppare una condizione di allergia. E questo dipende da quanto maggiore il livello delle IgE seriche, da quanto maggiore l'espressione delle molecole e la maggiore probabilità di avere sintomi. Ricordiamoci però che sensibilizzazione non significa sempre allergia, quindi se io ho anche un test allergometrico o sierologico positivo, non sempre ho una reazione allergica, quindi bisogna sempre fare il passo anamnestico importante di correlazione. E quindi quando io mi trovo una condizione di questo tipo, che comunque è abbastanza comune, tra le tante sensibilizzazioni come faccio a stabilire quali sono veramente allergie? E allora mi devo rifare alla diagnosi di allergia, ovvero l'anamesi, i test cutanei, ma soprattutto il dosaggio delle IgE seriche specifiche sia per estratti grezzi naturali che per molecole allergeniche, cioè la diagnostica molecolare. Posso naturalmente nei casi dubbi ricorrere la tre stesi di provocazione allergene specifico. Il dosaggio delle IgE seriche per molecole allergeniche è fondamentalmente rappresentato da due test, ovvero l'immunocap, che sono 95 più molecole disponibili, un test mirato, e l'ISAC, che invece è più costoso, è molto più rapido e sono 112 molecole. Quindi qui stiamo passando dalla fonte allergenica, quindi quello che utilizzavamo per il Prick test alla molecola e parliamo appunto di CRD. Le differenze tra tutti questi test sono qui sintetizzati, ovvero l'ISAC con 30 microlitri di siero io vado a studiare 112 allergeni. Ha il difetto di essere poco sensibile, però estremamente vasto nella sua approfondimento delle varie molecole. L'immunocap invece è un metodo quantitativamente più preciso, però richiede la scelta dell'allergene e occorrono 40 microlitri di siero per singola allergene. Quindi il test molecolare in cosa ci aiuta? Ci aiuta nel migliorare la diagnosi perché identifichiamo le molecole, valutiamo la prognosi, quindi capiamo la maggiore o minore gravità e severità di sintomi e soprattutto un rischio di sviluppare altre malattie e poi possiamo decidere sulla digestione del paziente, quindi l'evitamento dell'allergene oppure l'immunoterapia specifica. E la diagnostica molecolare, come ricordato dal documento WOW Aria Galen, è soprattutto utilizzata e estremamente utile nei poli sensibilizzati per definire quella che è l'immunoterapia specifica. Quindi gli obiettivi della diagnostica molecolare sono fondamentalmente due, cioè caratterizzare il poli sensibilizzato e quindi studiare le grosse attività eventuali e poi entriamo nel merito e anche capire la possibile gravità di alcune risposte IgE, quindi di alcune sensibilizzazioni. Questa è un testo estremamente utile delle ACI che ci guida proprio nella capire questo mondo di molecole e ci ricorda, e questo è un po' la base di tutto, che nell'ambito delle molecole allergeniche dobbiamo distinguere quelle specie specifiche da quelle crosse reattive che si chiamano appunto panallergeni. Questo è per farvi un esempio. Nell'ambrosia io qui ho riportato sei molecole, dell'artemisia ne ho cinque, della parietaria ne ho quattro, quindi abbiamo una disponibilità di molecole che noi possiamo andare a studiare, ma poi il risultato finale è che se abbiamo alcune molecole come nel caso dell'ambrosia AMB A1, nel caso dell'artemisia ART V1 o PARJ2 nel caso della parietaria, noi abbiamo dei marcatori specifici dell'allergia a questi singoli allergeni. Quindi i markers di sensibilizzazione primaria sono fondamentali per migliorare l'accuratezza della diagnosi, quindi condurci verso una prescrizione terapeutica adeguata e eventualmente un'immunoterapia. PR10 è una grande famiglia che comprende anche la BETV1 che è anche un altro marcatore specifico della betulla. È contenuto anche in altri pollini come il nocciolo, il carpino e come vedete qua anche in alimenti cross-reattivi contenenti proteine omologhe, quindi frutta, come vediamo mela, ciliegia, albicocca, che possono essere responsabili di sindrome orale allergica da vegetali, che sono dei fenomeni molto frequenti nei pazienti con sintomi oculorimetici da betulla o da nocciolo. Però la betulla, o meglio le betullacee, contengono anche altri allergeni, cioè le molecole sono la fondamentale, abbiamo visto, BETV1, però ci sono anche le profilline e anche le polcalcine. Queste sono dei markers di cross-reattività, vale a dire non sono contenute solo nel polline della betulla, sono degli allergeni estremamente ubiquitari in natura. Le profilline sono infatti delle proteine presenti in pollini, come vedete qua, di vario tipo, dalle erbe alle piante, cross-reattivi tra loro, che sono anche ingeribili attraverso l'introduzione di alcuni vegetali, come il melone, l'anguri, eccetera, e che causano frequentemente una sindrome che si chiama orale allergica. Le polcalcine, altrettanto, sono presenti in pollini di alberi, graminacee, erbe, quindi famiglie non correlate a volte tra loro, che comunque caratterizzano una risposta in genere piuttosto tardiva in pazienti con una rinite già presente. In questo network italiano, che è la rete IPAN, che è stata condotta da alcuni dei nostri colleghi, come Matricardi, Tripodi, eccetera, sono stati valutati 1.360 pazienti pediatrici con rinite allergica da pollini e si è visto che il 24% di questi presentava sindrome orale allergica, il 40% circa aveva anche l'asma. L'85% di questi soggetti risultava polisensibilizzato da almeno 3 strati pollinici e circa il 52% da almeno 6, questo per renderci conto di com'è diffuso il fenomeno. Quindi quando noi abbiamo un problema di tipo allergico in un paziente, dobbiamo sicuramente analizzare bene la storia clinica e capire la stagionalità dei sintomi, ma anche procedere poi con un test di primo livello che è lo skin prick test, oppure le IgE sieriche specifiche tradizionali, il cosiddetto vecchio RAST, oppure fare nei casi più complessi di polisensibilizzati una diagnostica avanzata, quindi la molecolare. Il punto fondamentale è poi andare all'interpretazione dei dati. E questo era per farvi un esempio, un paziente che ha sintomi in inverno e in primavera, quindi verosimilmente potrebbe avere problemi in zona mediterranea da cupressacee, da betullacee e graminacee, noi andremo a ricercare le proteine più importanti, quindi cupa 1 per il cipresso e betv1 per la betulla. E quindi faremo una diagnosi ma ricercando proprio quelle che sono le molecole primarie e lasciando, trascurando un po' le molecole invece cross-reattive che pure possono essere presenti. Poi se abbiamo un sintomo più all'unprimavere o all'inizio estate, potremmo avere per esempio in Liguria, ma anche in Calabria, sicuramente la problematica della parietaria e quindi ricercheremo anche PARJ2 e quindi di nuovo andiamo a cercare i marcatori primari della risposta allergica. Quindi ci avviciniamo sempre di più verso una medicina di precisione. Questo naturalmente ci riporta verso l'immunoterapia specifica, che è un modello di medicina personalizzata, dove davvero le devono cercare l'allergene, la molecola allergenica e dove l'impiego della diagnostica molecolare, soprattutto nei polisensibilizzati, ci consente una prescrizione corretta. Questo naturalmente è un tema dibattuto già dagli anni 2010, perché si era iniziato a chiedere sui vari articoli se era corretto prescrivere l'immunoterapia nei polisensibilizzati. La risposta è stata sì. È una risposta anche garantita da studi, i cosiddetti big trials, in cui si è dimostrato che anche chi faceva immunoterapia per graninacee, pur avendo altre positività, l'immunoterapia in questi soggetti era sicura ed efficace. E questo invece è un articolo molto bello che deriva sempre dalla rete IPAN, che ha messo in risalto che dopo l'avvento della diagnostica molecolare effettivamente è cambiata la modalità prescrittiva. E questo è sicuramente un qualche cosa che fa fare un passo avanti all'allergologia perché aiuta proprio alla proprietrezza della prescrizione. Quindi non ci sono delle immunoterapie che sono magari confuse dalla presenza di risposte che sono anche per molecoli minori, ma che non sono importanti poi nella sintomatologia del paziente. E questo invece è un articolo di Matricardi estremamente bello, in cui si diceva che alcune molecole, prendiamo qui le graninacee, compaiono precocemente, vediamo per esempio Cleon P1, già in una fase quasi preclinica, i livelli all'inizio non sono molto elevati e poi diventano delle risposte via via incrementali, tanto più il sintomo si fa importante. Vedete come i livelli delle molecole sono estremamente alti alla fase più conclamata della sintomatologia allergica, per cui la proposta era quella di iniziare un'immunoterapia precocemente, quindi giusto nel bambino, quando ancora una risposta a poche molecole e con poche IgE, quindi con livelli più bassi delle IgE sieriche. Questo è l'algoritmo che volevo riportarvi per richiamare proprio l'allergia alle graninacee, vedete come i componenti maggiori sono Cleon P1, Cleon P5, poi i componenti minori sono gli altri, mentre invece le profilline che sono comunque elencate qua sono decisamente da non considerare. Quindi nell'algoritmo diagnostico questa risposta diciamo diventa decisiva, perché se noi abbiamo una risposta Cleon P1 sicuramente siamo nella corretta gestione dell'immunoterapia nel momento in cui la prescriviamo per le graninacee. Se abbiamo per esempio Cleon P2, P5, P11 altrettanto possiamo andare a prescrivere l'immunoterapia e probabilmente questo è un paziente che ha già sviluppato una risposta per tante molecole delle graninacee. Viceversa se abbiamo una risposta Fleon P7 o Fleon P12 non abbiamo una condizione che ci consente in maniera corretta di andare a prescrivere un'immunoterapia. Sicuramente ci sono dei pazienti mono-polisensibilizzati che devono essere valutati in maniera diversa, è ovvio che i monosensibilizzati che hanno una singola risposta ad un allergene andranno a fare una singola immunoterapia, ma i soggetti che sono polisensibilizzati a cui andiamo a fare i test che dicevamo prima più avanzati avranno delle risposte per tutte queste molecole più o meno presenti che mi condizioneranno poi una prescrizione di immunoterapia mirata. Quindi se sono Fleon P1, P5 positivo farò le graninacee, se ho anche l'olivo posso aggiungere l'immunoterapia per olivo, se invece ho solo l'olivo e non ho Fleon P1 e Fleon P5 non farò le graninacee, farò solo l'olivo. Questo naturalmente era per farvi un esempio di come nell'ambito proprio della gestione pratica delle allergie e quando si vuole fare immunoterapia è molto importante conoscere anche l'utilizzo di questi test. E per cui vi ringrazio, vi riporto a questa ultima figura molto bella che ci dice partiamo dalla clinica ma poi ricordiamoci di arrivare a delle conclusioni diagnostiche su cui andiamo a ragionare in maniera critica proprio sugli aspetti più fini che consentono davvero di fare una medicina di imprecisione. Grazie a tutti.